Non so cosa dirvi davvero, tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta fino alla dispatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Oggi possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Io però non posso farlo per voi, sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso... Certo, certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo? Mezzo passo fatto un po' in anticipo e in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. C'è un po' in anticipo. C'è un po' in anticipo. C'è un po' in anticipo.